Come è andato il primo giorno di scuola a Teramo? Un rientro alla normalità per i ragazzi dopo due anni di pandemia, finalmente un rientro a scuola che appunto permette loro di sprigionare il sorriso e quindi ci consente di avviare questo nuovo anno scolastico nella tranquillità e nella serenità. Il tema più dibattuto in queste settimane è stato quello relativo al risparmio energetico e quindi a tutto quello che in qualche modo è conseguenza del conflitto in essere. In tal senso come vi muoverete, adotterete dei provvedimenti? Innanzitutto ringrazio le dirigenti scolastiche per la disponibilità con la quale si sono confrontate nei giorni passati con l'amministrazione comunale. Abbiamo deciso di non modificare quello che è il calendario scolastico perché non è in alcun modo giusto andare a scaricare sui ragazzi anche questa emergenza. Hanno già dimostrato resilienza per quanto riguarda la pandemia. Il sindaco D'Alberto è l'assessore all'istruzione Core e stamattina hanno visitato alcune scuole del territorio, tra queste l'Adalessandro. L'Adalessandro ha voluto portare il suo augurio personale a questi ragazzi che tra l'altro tornano in classe, tra virgolette, in libertà rispetto agli ultimi due anni. Sì, è un anno di ritorno alla normalità, senza le mascherine, una normalità che deve assolutamente avere continuità. Ho detto per i ragazzi di fare tesoro del tempo che hanno vissuto, del principio del rispetto dell'altro, della necessità di proteggere se stessi e gli altri, di far crescere una comunità. La scuola è il luogo più importante, come diceva Calamandrei, è un organo costituzionale, un organo dove si formano le coscienze, si sviluppa la personalità, si valorizzano i principi di libertà e di uguaglianza, ma è come in questo momento, in cui dopo la pandemia siamo chiamati ad un'altra attività importantissima, accogliere i tanti bambini che purtroppo non hanno la fortuna di poter vivere la scuola nella loro terra, e li accogliamo con l'abbraccio di una struttura scolastica e di una comunità scolastica come la nostra, che ha già dimostrato di essere grande. Grazie a tutti.